Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TV City, in apertura siamo a Torre del Greco per parlare della campagna vaccinale, in particolare del primo degli open day dedicati agli studenti in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Questa mattina siamo stati nei locali della Santissima Trinità per documentare la situazione, non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, boom di guarigioni ieri a Torre del Greco. Sul fronte della NU l'assessore Cinzia Mirabella risponde alle accuse sulla questione del trasbordo rifiuti, inoltre in programma la prossima settimana la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata. Sul piede di guerra anche i marittimi a Torre del Greco protesta questa mattina all'esterno della direzione generale dell'Asla, ai nostri microfoni, il presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, Vincenzo Accardo, fa il punto dopo l'incontro con i vertici della direzione sanitaria. Questo ed altro, guardiamo i servizi. La percentuale dei vaccinati ad oggi a Torre del Greco supera il 70%. Dai primi di settembre la campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità è ripresa con forza. E anche i più giovani stanno rispondendo bene al primo dei quattro appuntamenti in programma oggi, giovedì 9 settembre, promossi dall'Asla Napoli 3 Sud per incentivare i giovani d'età compresa tra i 12 e i 17 anni in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico. Ai microfoni di TV City, dottor Ivano Auscello fa il punto sulla campagna vaccinale in città. Siamo al centro vaccinale qui alla Santissima Trinità, dottor Auscello, oggi la prima delle quattro giornate dedicate alle vaccinazioni per la fascia di età 12 e 17, come sta andando? Bene, abbiamo avuto un incremento che supera il 30-40% dal primo settembre, quindi c'è stata una grossa risposta dei giovani di età scolare fondamentalmente. E quindi ci aspettiamo anche per queste quattro giornate di Open Day che abbiamo dedicato a loro, che ci sia una massiccia adesione da parte loro per incrementare la percentuale di vaccinati anche in previsione dell'apertura delle scuole. Qual è il vaccino che viene somministrato a questa fascia d'età? Sempre il RNA, quindi il Pfizer o il Moderna. E si stanno riscontrando sui giovani degli effetti collaterali? No, per il resto invece la campagna vaccinale come procede? Possiamo dare dei numeri? La campagna vaccinale dopo un momentaneo rallentamento legata alla pausa estiva è ripresa con forza già dai primi di settembre, quindi noi ci aspettiamo che con i prossimi giorni si incrementi ancora di più. Superiamo sicuramente il 70% della popolazione. C'è stata un'ampia adesione della medicina generale qui a Torre del Greco dove i numeri di pazienti vaccinati dai medici di miglia generale è molto molto alto. Ricordiamo che questo centro è aperto già da diversi mesi e state lavorando tantissimo. Diciamo fino alla sera, alle 20 di sera, 6 giorni su 7, all'inizio erano 7 giorni su 7 e comunque i numeri su Torre del Greco sono alti, la percentuale di vaccinati, le ripeto, supera abbondantemente il 70%. Quindi sono importanti queste giornate di sensibilizzazione in vista dell'apertura delle scuole, dell'avvio dell'anno scolastico per coprire anche questa fascia d'età? Sì, sicuramente perché poi saranno loro quelli più esposti a rischio dovendosi spostare con i mezzi pubblici e comunque rimanendo nelle classi, negli ambienti chiusi. Il stesso governatore diceva che per garantire una scuola in presenza è necessario che tutta la popolazione studentesca sia vaccinata. L'obiettivo è quello di vaccinare praticamente tutti. Tra i giovani sono di solito favoribili al vaccino, anche perché questo gli consente di riprendere una vita sociale normale, cosa che fino a questo momento gli è stata purtroppo impedita. Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Boom di guarigioni nel comune di Torre del Greco. Infatti sono 41 le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19. Si certificano invece tre nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 94 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata invece sono registrati due nuovi casi di contagio da Covid-19, a fronte di 107 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,87%. Al contempo si registrano anche due guarigioni. Sono 60 i cittadini attualmente positivi. Intanto il presidente della campagna, Vincenzo De Luca, rinnova il suo appello ai cittadini a vaccinarsi. Lo ripeto ancora una volta, dobbiamo vaccinarci tutti e non andare dietro le stupidaggini che circolano anche sui social. Assessore Cinzia Mirabella, disagi per i cittadini di Via Sant'Elena a causa della pratica del trasbordo. Come mai non funziona? Che non funziona? Eh sì, è sotto gli occhi di tutti, che ci sono delle mancanze. La politica sta cercando soluzioni, soluzioni che non sono così semplici, perché ovviamente abbiamo bisogno dei luoghi deputati per poter fare questo, quindi dei luoghi autorizzati. Abbiamo verificato anche verso privati, le risposte in questo momento non sono così positive, quindi stiamo verificando soluzioni alternative, anche di poter farlo in più luoghi, quindi da non mortificare sempre le stesse zone, quindi sempre gli stessi cittadini che non riescono a dormire la notte, per rumori, per cattivi odori. Continua il braccio di ferro dell'amministrazione con la ditta? Questo sì, sì, continuiamo, ma non perché c'è un accanimento verso la ditta butto, l'assolutamente. Noi abbiamo sempre detto che chi vuole lavorare è ben accetto, il problema è soltanto che attualmente continuiamo a vedere delle mancanze, delle forniture che ancora non sono arrivate, quindi è ovvio che dalla parte della politica c'è un'attenzione, è anche un'arrabbiatura se è concesso il termine, perché ovviamente c'è chi paga, ma c'è chi non riceve un servizio. Chi è rientrato dalle vacanze ha trovato ancora una volta la città purtroppo sporca? C'è chi è rientrato dalle vacanze e c'è chi le vacanze non le ha proprio fatte, io insieme a quei cittadini, quindi siamo stati qui a Torre del Greco per trovare queste soluzioni. Lettere infocate sono state scritte da parte di questa amministrazione e altrettanto da parte degli uffici. Ci sono state delle azioni forti, forti che avevamo già annunciato prima dell'estate, che stanno avendo un loro decorso, quindi dovremmo avere dei risultati. C'è sempre stato un problema di ingombranti, soprattutto in alcune zone della città, ma è sotto gli occhi di tutti che il prelievo non funziona, perché quasi tutti i giorni la città è sporca. Allora, per la questione di ingombranti si è lavorato soprattutto su questo, perché abbiamo trascorso un'estate dove continuamente la politica andava a verificare se il centro della Santissima Trinità fosse aperto, quindi più volte abbiamo anche chiamato le forze dell'ordine per registrare che la ditta chiudeva e apriva in orari in cui doveva rimanere aperta. Abbiamo verificato anche la fattibilità di aprire altri centri, quindi per la settimana prossima, ci auguriamo, quindi incrociamo le dita, che tutto possa andare a buon fine, stiamo verificando di aprire la Santissima Trinità, oltre alla Santissima Trinità, anche Viale Sardegna. Stiamo verificando la fattibilità di poter concedere a Viale Sardegna un appunto per il ritiro dei RAE. Sono stati anche intensificati i controlli con le fototrappole per stanare gli incivili, soprattutto nelle zone più critiche? Continuiamo con la Polizia Municipale a stanare persone che continuano a sversare illecitamente i rifiuti. Nei giorni scorsi abbiamo visto che purtroppo abbiamo registrato che ci sono anche persone che con motorini dove si oscurava la targa depositavano illegalmente dei rifiuti. Sono state fatte delle indagini, continueranno per verificare chi possono essere queste persone, per capire anche la finalità di questo deposito, se è mirata, se è per un danno di immagine voluto che si vuole fare a Torre del Greco. In programma anche a breve la consegna dei nuovi kit per la differenziata? Sì, si prevede che per il 13 settembre dovrebbe iniziare la distribuzione delle buste. I calendari saranno gli stessi di quelli precedenti, quindi per evitare di disabituare la cittadinanza. Ovviamente sarà tutto ufficializzato con un avviso pubblico, quindi avremo modo di pubblicizzarlo. Incrociamo le dita anche su questo, quindi per il 13 settembre dovremo partire. Vergoia! 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 Sit-in dell'Associazione Marittimi per il Futuro, questa mattina all'esterno della Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud in Via Marconi a Torre del Greco. Con cori, striscioni e cartelloni, i lavoratori del mare chiedono che venga fatta chiarezza sui corsi di primo soccorso, first aid e medical care. Invitati a partecipare alla protesta dal presidente dell'Associazione Vincenzo Accardo, marittimi appartenenti alla categoria degli ufficiali di bordo, comandanti, direttori di macchina, ufficiali di coperta e macchina. Grande l'indignazione dei lavoratori, ancora una volta penalizzati dalla burocrazia e non solo. Come sempre il sistema non agevola i marittimi, denunciano a gran voce, a causa delle lungaggini burocratiche, impedendo loro di lavorare con serenità. Poi una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta dall'azienda, per affrontare insieme la problematica. Vincenzo Accardo, questa mattina un sit-in all'esterno dell'ASL Napoli 3 Sud. I marittimi vogliono che sia fatta chiarezza sui corsi first aid e medical care. Come è andata? Abbiamo parlato proprio di questa problematica di tantissimi marittimi che scaderanno i corsi, il first aid e medical care, dove a fine mese c'è un nuovo bando, dove noi pensavamo in questo bando c'era una limitazione solo che a Stella Mare invece è aperta a tutti. Tutti possono partecipare a questo bando e chiunque agenzia vorrebbe fare questi corsi potrebbero fare. Io spero solo che aumenteranno questi corsi perché fra poco scaderanno tantissimi e tantissimi questi corsi. A questo sono tutti quanto lo Stato Maggiore, diciamo i comandanti, i direttori di bordo, che sono migliaia e migliaia perché cinque anni fa indietro si metteva solo un timbro. Al Sasana di Napoli, ex Cassa Marittima, oggi no, è passato mani centri, ci sono dei cartelli affermati solo per poche persone. È inaccettabile quello che sta succedendo. Questo abbiamo denunciato diciamo all'ASL stamattina. E quindi dall'ASL sono arrivate delle rassicurazioni in merito? All'ASL sono arrivate delle rassicurazioni, dico che ora partiranno altre cinquante persone per fare questo corso, ma a cinquante non basteranno perché sono migliaia i marittimi che devono rinnovare questo refresh di corso. Ma ringraziamo anche il comune che era presente con noi e dove ha detto con forza, si guardate, questo è un problema primario perché anche l'ASL ha problemi di strutturazione di personale, che non hanno personale, ma questo lo sappiamo. Ma il problema è che il marittimo che nella pandemia così grave è partito con le navi, ha portato il mangiato sulle isole, dove ha dato il primo benessere per le isole. Allora il marittimo già sta pieno di difficoltà. Per il vaccino abbiamo fatto una guerra. Diamo una luce di speranza a questa voce dei lavoratori. Non facciamo scadere questi corsi perché, dovete sapere, facendo i refresh costano due cinquante, li stanno facendo scadere perché li devono pagare settecento euro. Questa è la cosa vergognosa. Allora più costo è più trasparenza. Noi vogliamo trasparenza? Vogliamo trasparenza, trasparenza. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.